Il mio fratello, mentre si sta riscaldando e facendo dei tiri, vediamo come fa il primo tiro. Bravo! Da lì, lui dovrà tirare, vedete il mio dito? Lì, dove sta il mio fratello? Sarebbe a distanza fare la 4 metri e mezzo, far rimbalzare in quel tetto lì, e poi rientrare in questo canestro. Mi sembra un po' difficile, ma mi sa che lui ce la potrà fare. Vediamo un po', c'ha 3, 3 tentativi. Vediamo un po' come se la caverà. Lo segna in primo, lo segna! Ma chi è? Michael Jordan? Sì, sì!